Una perla della musica classica e un nobile fine aiutare l'opera guanelliana in Cile. La messa da requiem per soli, core e orchestra di Giuseppe Verdi, verrà interpretata dalla Suddeusche Arts & Core e dall'Arts & Orchestra diretti da Marius Pop il 29 maggio prossimo alle 21 nella Cattedrale di Como. Il Duomo Lariano accoglierà 110 medici musicisti che fanno parte del coro e dell'orchestra tedeschi e che si esibiscono sempre per motivi benefici. Il concerto infatti andrà a beneficio della casa guanelliana per anziani Hogar Padre Antonio Ronchi di Coyache nel sud del Cile. Nella lontana Patagonia la casa anziani è intitolata al guanelliano milanese Padre Ronchi che è morto 15 anni fa e ha lavorato proprio in Patagonia quasi 40 anni. Tornando alla musica, Consuelo Gilardoni, soprano, sarà l'unica comasca che prenderà parte a questa grossa produzione. Con lei canterà il suo maestro, il tenore Maurizio Comencini, veronese e con tra requiem già l'attivo. Il concerto ha il patrocino del Comune e dell'Ordine dei Medici di Como.